Tragedia intorno alle 13 di oggi ad Arco, ai piedi della ferrata del Colodri, la frequentatissima via attrezzata che parte dalla località Pravi. Un turista germanico di 49 anni che si trovava ai piedi della via attrezzata è stato centrato in testa da una pietra staccatasi dalla parete, proprio mentre si stava accingendo ad indossare il casco. Inutile il tempestivo intervento dei soccorritori, lo sfortunato turista è morto sul colpo. Il medico dell'elicottero, calato sul posto con il verricello, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. È stato compito degli uomini del soccorso alpino recuperare la salma, che è stata trasportata alla base e quindi alla camera mortuaria di Arco. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale sotto gli ordini del comandante d'Arcangelo. Quest'inverno la parete che segue la via attrezzata, è stata oggetto da parte del comune di una scrupolosa pulitura, un'attività di prevenzione che, è evidente, non può eliminare del tutto i rischi connessi ad un'attività in parete.